5 agosto 1906. Nasce a Catania Ettore Majorana, grande fisico e matematico. Dopo essersi iscritto a Roma alla Facoltà di Ingegneria, passa a quella di fisica su consiglio del suo amico, lo scienziato Emilio Segre. In questi anni frequenta l'Istituto di Fisica di Via Panisperna diretto da Enrico Fermi. Si laurea con una tesi sulla teoria quantistica dei nuclei radioattivi. Il suo contributo scientifico è di enorme rilevanza, ma il suo carattere introverso e schivo lo tiene lontano dalla ribalta. Majorana scompare misteriosamente nel marzo del 1938. Il 4 febbraio 2015 la Procura di Roma ne archivia la scomparsa. Una fotografia infatti dimostrerebbe che Majorana, a metà degli anni cinquanta, si trova in Venezuela. A ragione lei. Continuiamo il calcolo. Radice di A con uno, seno, fi con due, a con due, seno, fi con due, fi con zero, parentesi più a con uno, coseno, di psi con uno, più i con zero, seno, no, coseno, fi con zero, più a con uno, coseno, fi con uno, più i con zero, parentesi, no, fi con zero. Il foglietto! Se qualcuno trattasse lei come lei tratta la matematica finirebbe dritto in galleria. Il foglietto! Il risultato è questo.